La mancata stabilizzazione della politica, un affermarsi non di un dualismo, ma insomma di un qualche cosa di consolidato, noi siamo in ritardo istituzionale e quindi non è che non si fanno riforme a caso, non si fanno perché abbiamo ritardi anche nel consolidamento della politica e della discussione. Quindi noi ci occupiamo di trasmissione del sapere, il sapere e il saper fare e quindi è chiaro che qualcuno si deve occupare di questo, perché poi un elemento fondamentale nelle attività che si svolgono in un Paese è il saper fare le cose, è valorizzare le persone. La valorizzazione della risorsa umana non è una cosa secondaria, sembra che non interessi quasi a nessuno, però noi ci occupiamo di questo e quindi bisognerebbe trovare un terreno fertile per poterla svolgere questa attività. Non sempre è così, anzi io vedo nel commentare un po' più in profondità, stamattina ci hanno bombardato i dati, quindi capisco anche che uno che arriva qui e non era il Corriere rimane poco, però sostanzialmente si può dire che nel rapporto come numeri sta uscendo una situazione sostanzialmente stabile nonostante la crisi. Il sistema formativo, quindi di trasmissione dei saperi e del saper fare che abbiamo messo in piedi nel nostro settore sta tenendo sia da un punto di vista dell'attività, sia da un punto di vista dei bilanci, nonostante la riduzione delle masse salari. Ma se uno va a scavare un pochino più dentro, diciamo che i timori che avvenga un degrado sulla qualità di quello che facciamo è una cosa concreta. Mi riferisco a questo. intanto i numeri che ci sono stati detti, 132.000 nell'ultimo anno, sembrano in calo rispetto al 2011, ma non è così, perché il 2011 è drogato da 32.000 lavoratori socialmente utili che sono stati, diciamo, trattati in Sicilia e che non riguardano strettamente il nostro settore, ma erano lavoratori che dovevano essere impiegati nel nostro settore. Quindi è un evento straordinario che ha alterato il normale andamento della nostra attività. Quindi in effetti il 2012 è in crescita progressiva come numero di persone trattate. Peraltro invece sono calate le ore specifiche di ciascuna attività formativa. Quindi siamo scesi mediamente intorno a 30 ore di ogni attività formativa, che è un numero basso, è tendenzialmente in contrazione. E quindi è vero che questo favorisce il fatto che si faccia attività, perché togliere personale occupato dall'attività di cantiere e mandarlo in formazione è una cosa che le imprese fanno malvolentieri, i stessi lavoratori li affrontano malvolentieri. C'è il problema di pagargli comunque le ore di formazione. Quindi anche se la formazione è gratuita viene a costare in termini di sacrificio da parte del cantiere dell'impresa abbastanza in misura rilevante. Il problema è anche che la qualità della formazione che stiamo facendo si sta orientando sempre di più verso la formazione obbligatoria. Quindi non possiamo non notare come hanno fatto rilevare anche alcuni interventi di ieri sera nella nostra riunione interna che sostanzialmente le imprese fortemente stressate dagli obblighi di legge imposti dalla legislazione soprattutto sulla sicurezza, vanno a fare formazione obbligatoria dopodiché sono molto poco propense a mandarle a fare anche formazione professionale. Però guardate, la formazione specifica per obblighi di legge ai fini della sicurezza è una cosa ma che dà un impatto modesto sull'elevazione dei livelli effettivi di sicurezza nei cantieri. Ciò che eleva la qualità e la sicurezza è il saper fare e quindi la formazione professionale proprio di incremento della propria professionalità, delle proprie capacità di conoscenza del mestiere che si fa. È quella che sta venendo un po' meno. Quindi, luci e ombre, i numeri sembrerebbero in incremento ma la qualità va degradando verso l'obbligatorietà e questo non mi piace, non mi piace ma non piace nemmeno a chi osserva attentamente le questioni dagli interni. Gli addetti a lavori non amano questa cosa. Tutti noi siamo proiettati, secondo il processo di riconversione che ci siamo dati cinque anni fa, quattro anni fa, siamo proiettati verso il PSP. Sarebbe quello l'obiettivo, il piano di sviluppo professionale individuale, cioè l'incremento e la valorizzazione della risorsa umana attraverso una maggior conoscenza del proprio mestiere. Ma questo implica uno sforzo che non possiamo fare da soli. E se il mondo va verso una organizzazione cartacea della formazione e degli attestati, eccetera, eccetera, chiaramente non ci favorisce. Perché già stressiamo le imprese e i lavoratori per ottenere adempimenti e attestati di adempimenti. Non è facile fare invece quella formazione di tipo elettivo, di scelta, che uno fa per migliorare se stesso e che l'impresa favorisce per avere gente più in gamba. Ecco, questo è il tema. E anche i bilanci, poi, è vero che hanno tenuto. Avete visto che c'è stato uno spostamento complessivamente di 10-15 milioni sulle immobilizzazioni, sono calate le liquidità, sono incrementate le immobilizzazioni, ma sostanzialmente, da un punto di vista patrimoniale, c'è una situazione di stabilità. Sì, i risultati del bilancio si ottengono in vari modi. Quindi, se non si riesce a tagliare su certe cose, si riesce anche a contenere le spese, magari a scapito della qualità di quello che si fa. Se noi facciamo dei corsi per attrezzature che sono molto costosi, oggettivamente, perché noi non facciamo pezzi di carta, noi facciamo esercitazioni vere con i mezzi, sono costosissimi. Si corre il rischio che, contraendosi i bilanci, medici, poi, sta qualità, magari tagliamo metà dei mezzi. Allora, se facciamo un corso per patentini con 10 persone e ci abbiamo due mezzi soli, questi, in effetti, di 10 ore lavorate, ne lavorano due ciascuno. È un problema. Quindi, andando a scavare a fondo, io vedo luce e ombre. Allora, passando in generale, vorrei mettere sul piatto un'altra questione, perché così poi magari vorrei anche un dialogo da parte dei nostri ospiti. Diciamo, questo è un po' quello che riguarda la formazione in senso stretto, ma la formazione è un pezzo della nostra attività. Noi credo che dobbiamo, invece, considerare che il momento che stiamo attraversando, un momento che non si sa bene a che punto siamo, se siamo a un flesso, se siamo in un punto finale di ripresa, eccetera. Però noi dobbiamo cogliere questa situazione per eliminare i difetti che c'è nel nostro sistema bilaterale e cogliere le opportunità che potremmo cogliere. È inevitabile che il nostro sistema bilaterale si debba semplificare, ma non per motivi di semplice razionalizzazione delle risorse e contenimento dei costi nei bilanci, eccetera, eccetera. Ma per cogliere le opportunità, cioè occorre dare una forte, concreta sinergia ai tre enti per fare in modo che tutti insieme poi imbocchiamo anche una strada nuova di nuovi servizi, nuove attività e accompagniamo i percorsi di stabilizzazione, di ripresa verso il futuro delle imprese e dei lavoratori, attraverso attività di servizio complesse, adeguate ai tempi e che non comportino splafonamenti di spesa, eccetera, di risorse che non abbiamo. Quindi il nostro mondo delle costruzioni negli ultimi cinque anni, come si è detto ieri sera, è stato sconvolto, attraversato da una tempesta incredibile in cui anche elementi positivi come l'innovazione e la globalizzazione hanno giocato insieme alla crisi spesso un ruolo negativo, sbriciolando le imprese più strutturate e diciamo lasciando solo frammenti in giro. Invece noi dovremmo cercare che gli elementi di innovazione nei prodotti, nei processi e nei sistemi di costruzione e gli elementi di globalizzazione dei mercati che ci consentono di attingere a tantissime cose, eccetera, e che creano una fioritura di nuovi ruoli nel nostro settore, non ancora come ha notato qualcuno, non ben definiti da standard, eccetera, che non abbiamo, ma sarà difficile. Noi dobbiamo creare sostanzialmente un sistema bilaterale unitario, molto stretto, molto gestibile, indirizzabile e guidabile dinamicamente. Cioè noi non possiamo sclerotizzarci in una... è il momento in cui, dopo 50 anni di onorato servizio, noi questo sistema bilaterale lo facciamo evolvere verso un sistema moderno, flessibile, reattivo, cioè capace di ricevere impulsi dall'esterno, dal mercato e dal settore e trasformarli in azioni rapidamente, accompagnando lo sviluppo dell'attività delle imprese e dei lavoratori. Io ho anche la mia ricetta in tasca, non pretendo che sia la ricetta di tutti, però io credo che intorno a questo valore bisogna discutere, vorrei capire anche qual è il contributo delle parti sociali su questo punto, che cose ne pensano, so che ne stanno discutendo sul contratto, spesso nei contratti però. Il nostro contratto ha un problema, no? 12 sigle, non lo so quanti siamo, eccetera. Allora c'è il problema del veto, perché basta un solo attore di un contratto, e questo da un punto di vista del principio è comprensibile, per far saltare tutto, e quindi spesso si raggiungono i compromessi e anche dei tempi molto lunghi di gestazione e metabolizzazione dei processi. Lo Stato, non dico che, lo Stato ha dato rilievo ad alcune attività nostre e noi siamo fieri di questa cosa, ma io credo che una maggiore interazione sia parlato, nella trasmissione di sapere qualcuno stamattina ha parlato di interconnessione col sistema dell'istruzione, col sistema dell'università e della ricerca, noi gli altri dobbiamo fare innovazione, non è che ci possiamo strutturare come una macchina da guerra, ponendo in campo risorse che non abbiamo. Credo che noi dobbiamo fare sinergia con gli altri corpi, noi non siamo pubblici, siamo una atipicità, ma credo che abbiamo anche delle funzioni di welfare sussidiario, di ruoli parapubblici che sono state attribuite dalle leggi. Io credo che noi abbiamo il dovere verso noi stessi e verso gli attori del mercato di interconnetterci con i pezzi dello Stato e avere da questi non solo riconoscimenti, ma anche integrazioni. Anche risorse può darsi, non è essenziale. Io dovessi scegliere, sceglierei che ci sia integrazione forte, non che ognuno svolge di ruoli in varie vesti, eccetera, e si ripete, si perde tempo. Credo che dobbiamo fare una forte sinergia. Spero che questo, gli attori che abbiamo anche in rappresentanza su questo tavolo, ci confermino queste possibilità. Buongiorno a tutti, argomenti molto importanti che vorrei riprendere anche sulla prima domanda, perché penso che sia doveroso da parte nostra, dal sistema ANCE, ribadire e risottolineare quanto è importante per noi la bilateralità, l'è sempre stata e come momento unico di sintesi delle necessità del settore delle costruzioni, che è un settore, lasciatemelo dire, che è stato spesso bistrattato, nel senso che forse a livello industriale è poco considerato, dovrebbe essere maggiormente considerato rispetto ad altri settori, però sappiamo tutti, noi siamo additati come quelli dove c'è il malcostume, dove c'è molti opportuni sul lavoro, nonostante gli sforzi sono stati enormi, trattanto gli investimenti su questa tematica, per cui sicuramente un settore che merita attenzione, ma lo sforzo che dobbiamo fare come parti sociali è quello di far capire al governo quanto è importante questo settore per sistema economico italiano. Voi sapete che il nostro PIL si basa molto sui consumi, oggi se non rilanciamo il mercato interno non avremo possibilità di rivedere e rifiorire l'economia, il Presidente Buzzetti vi ha già dato tutti i dati macroeconomici, i nostri indirizzi, le nostre richieste, per cui non mi addentro ulteriormente su queste tematiche, ma è chiaro che dobbiamo cambiare completamente pagina, il settore delle costruzioni merita quel rispetto importante che deve avere e dobbiamo far di tutto insieme come parti sociali per sottolineare che dobbiamo a tutti i costi ottenerlo, se vogliamo un nuovo tipo di edilizia, un nuovo mondo delle costruzioni in tutti i suoi aspetti. Purtroppo questa crisi si sta ripercontendo in maniera fortissima sul sistema delle costruzioni e questo mette in difficoltà tutto il sistema, i nostri enti bilaterali che a fatica sosteniamo, perché sapete benissimo che praticamente li sosteniamo noi, non ci sono altri sistemi industriali che hanno una bilateralità così spinta come abbiamo noi e come tale bisogna che noi la enunciamo completamente, perché molti si dimenticano di queste particolarità. Così come è importante per il nostro sistema delle costruzioni la formazione. Se vogliamo cambiare aspetto, vogliamo cambiare pagina, dobbiamo cambiarlo in una maniera completamente diversa come è stato fatto negli anni passati, non siamo più la categoria dove si trova la manodopera al bar, forse sì, c'è ancora, però non è questo che dobbiamo, non è questa l'immagine che deve essere data del nostro modo di fare impresa e di sostenere il sistema economico. Noi siamo una categoria industriale che deve basare il suo futuro sulla qualità del prodotto, sulla regolarità, su tanti fattori che sono importanti per il mondo delle costruzioni, ma non siamo sicuramente di serie B. Per cui la crisi c'è, la speranza che il governo, la politica capisca che è ora che mettersi a lavorare e togliere di mezzo punti di vista diversi e pensare a quello che è il bene del Paese e l'economia reale di questo Paese. Già distrutta da una finanza creativa, ma in ogni caso se ci si mette anche la politica qui non riusciamo più a uscirne. Allora, ma intanto noi dobbiamo fare qualcosa, secondo me, dobbiamo cominciare a rivedere concretamente alcuni passaggi dell'elencazione dei nostri problemi e poi dobbiamo cominciare dal primo, l'applicazione del contratto. Se il nostro sistema bilaterale è in crisi è anche perché c'è una scarsa applicazione del nostro contratto di lavoro. Se più del 60% dei DUR nel mercato DIL privato viene rilasciato da IMS e INAI vuol dire che c'è un problema, c'è un problema, e questo problema si ripercuota su tutta la bilateralità, perché l'applicazione di altri contratti crea concorrenza sleale oltre che danno alla bilateralità e noi dobbiamo avere la forza come parti sociali di sottolineare queste problematiche e vederci riconosciuto l'applicazione del nostro contratto nelle sedi opportune, secondo quello che è giustamente la strada opportuna, però dobbiamo farlo, non possiamo prescindere da questo, questo è basilare se vogliamo mantenere la bilateralità. Così come il grasso problema che abbiamo è il costo del lavoro, non siamo solo noi adesso che dice che dobbiamo abbattere il cuneo fiscale contributivo, dobbiamo avere la forza, ma non è che ve lo dico per così, per avere il vostro consenso, avere la forza di abbattere il cuneo fiscale contributivo dando maggior potere d'acquisto ai lavoratori, perché se non ripartono i consumi interni qui non c'è pezza per l'edilizia, ve l'ho già detto, dobbiamo avere questa forza, perché anche il costo del lavoro così alto è un grande problema per tutto quello che è l'applicazione del contratto, per quanto riguarda l'illegalità, gli infortuni, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un passaggio che dobbiamo anche sottolineare a gran voce, perché ci sono tante possibilità come parti sociali, vediamo di portarne avanti, perché penso che sia doveroso. Poi abbiamo i costi di questa formazione, di questo sistema bilaterale. Oggi lo sapete benissimo che c'è l'autosostentamento, ci pensiamo da soli, versiamo noi, ma noi siamo l'unico settore industriale che versa due volte, perché versiamo A per il nostro sistema di formazione e B per fondi imprese nel sistema nazionale. E noi versiamo due volte, noi non possiamo più sostenerlo, questo. Non possiamo. E allora anche su questo dobbiamo discutere. Dobbiamo o riusciamo a capire al governo che una parte di questi fondi dello 030, almeno quelli che vanno all'Inps, tornino alla formazione perché sono nostri, o dobbiamo fare altri discorsi sul sistema industriale. Oggi noi non possiamo più mantenere, le imprese non riescono più a pagare quello che pagano attualmente per la formazione. E più andiamo avanti e peggio sarà, perché ci sarà meno occupazione e meno imprese. Per cui il nostro è una strada continuamente in declino. E guardate che prima di riprendersi il nostro sistema non è immediato. Noi non siamo quella categoria industriale che produce un'unità di prodotto, la produce in 60 giorni e la asporta all'estero o sul mercato interno. Noi i cicli produttivi sono molto lunghi. La nostra preoccupazione adesso che la ripresa per noi sarà molto lunga, perché aprire un cantiere e chiuderlo non è immediata. La creazione della ricchezza e la distribuzione della ricchezza non avviene immediatamente in due minuti. Ci vuole del tempo. E' per questo che la preoccupazione per il nostro settore è importante. Per cui, visto che le risorse pubbliche sono in calo, province non avranno più le stesse risorse, le regioni non avranno più le stesse risorse, vuol dire che nei prossimi anni vedremo un calo drastico su queste disponibilità e si acutizzerà ancora di più questa problematica. Poi dobbiamo dircela. Se parliamo di formazione, ripeto, cosa importantissima per il nostro settore, parliamo di formazione per tutti. E per cui chiedo che anche qui ci siano passi concreti delle parti sociali per far sì che tutti abbiano l'obbligo sulla formazione. Nessun escluso. Non possiamo pensare che certi lavoratori debbano formarsi e certe altre figure professionali non abbiano l'obbligo della formazione. Questo dobbiamo dircela. Perché i cantieri, uguali per tutti, tutti entrano nei cantieri. E come tale la formazione, se parliamo di formazione con serietà, a 360 gradi, dobbiamo essere su questo principio ferrei. Perché l'infortunio possa nascere in qualsiasi momento nei cantieri. Per cui tutti devono avere il grado di formazione corretto. Ma, enunciati questi problemati, noi dobbiamo spingere anche il nostro sistema della bilateralità a un maggiore efficientamento. Perché così non può stare in piedi. I dati sono sotto gli occhi di tutti, sia nella formazione che nella mutualizzazione delle casse d'ili. In tutto il nostro sistema è così. Non riusciamo e non potremmo andare avanti. Per cui è compito nostro, è compito delle parti sociali, in un dibattito tra parti sociali, tra parti territoriali in generale, pensare come poter rilanciare questa bilateralità. Dobbiamo per forza rilanciarla. Noi abbiamo un problema che richiamiamo sempre la volontà di stare insieme, ma poi non riusciamo mai a stare insieme. Adesso dobbiamo avere la forza di farlo. Adesso dobbiamo avere la forza di metterci a un tavolo e cominciare a pensare come il nostro sistema possa sopravvivere domani, alla luce di tutte le problematiche che stanno arrivando. Ma dobbiamo farlo subito. E questo è il momento contrattuale, il momento importante su questa tematica. Dobbiamo vedere come razionalizzare i servizi, come razionalizzare i costi, come intervenire con puntualità e precisione sugli enti bilaterali, perché questa è l'unica strada. Le imprese, ripeto, non sono più in grado di sostenere questa bilateralità. E visto che è un patrimonio, che tutti abbiamo detto è un patrimonio, e siamo l'unico sistema industriale, o ci diamo da fare, ci rimbocchiamo le maniche con serietà e abbandoniamo i campanilismi, o altrimenti saremo costretti a vedere chiudere questo sistema. Non c'è altra soluzione. Se non arrivano fondi pubblici, se non ci sono più imprese e lavoratori, io non so come questo sistema. Per poche imprese non si può pensare di aumentare continuamente il costo del lavoro, perché il costo del lavoro è proprio deutico a tutti i malfunzionamenti, le inefficienze e il malcostume che c'è nel nostro mestiere. Perché pensare che il rapporto sia 1-3 tra salario reale e costo all'impresa è impossibile, non possiamo andare avanti con queste diversità e queste differenze. Per cui, qui sulla razionalizzazione degli enti, le parti sociali nazionali sono impegnate in un serio dibattito, non sicuramente facile, non sicuramente facile, lo devo ammettere, perché, specialmente nella mia associazione, però se dobbiamo capire che il sistema della bilateralità non è un sistema puntuale su qualche territorio, è un sistema che va dalla Val d'Aosta alla Sicilia. E se crolla un sistema, crolla anche l'eccellenza. E su questo dobbiamo dircelo, non dobbiamo raccontarci frottole. Per cui dobbiamo capire che tutti siamo nella stessa barca e tutti dobbiamo lavorare e remare per quella direzione per salvare questo sistema. Spero che ci sia molto appreso di coscienza di queste problematiche, perché altrimenti non ne usciremo. L'altro passaggio che voglio sottolineare, visto che siamo in sede i formidi, è valorizzare ancora di più quell'istituto della borsa lavoro, che è già stato messo in cantiere, ma che però vedo che sui territori non c'è grande entusiasmo da stare avanti. Quella è una grande opportunità. Noi come parte imprenditoriale, nel confronto col sindacato, abbiamo chiesto e detto, sempre con riferimento specifico al mondo delle costruzioni, che per far fronte alle problematiche del costo del lavoro, della migrazione continua, bisogna fare in modo che le imprese non abbiano più paura di assumere. Non abbiano più paura di assumere. Oggi nel nostro sistema si fa fatica a assumere. Le imprese non assumono più. Non assumono più. Per tanti motivi. Per quel milione e cinquanta mila tra partite IVA e società senza neanche un dipendente, che drogano il mercato, togliendo fette di mercato alle imprese che stanno alle regole del gioco, che fondono la loro attività sull'occupazione. E allora dobbiamo prendere posizione su queste cose. Dobbiamo arrivare seriamente a parlare di strumenti anche di flessibilità buona però. Buona. Senza volamento in difficoltà il lavoratore. Anzi, tutelandolo. Ma questa borsa lavora deve avere un posto di formazione continua o poter riqualificare anche per altri settori industriali, se occorre, la figura professionale. Le persone, quando i cantieri finiscono, i lavoratori possono andare in formazione continua e essere riconvertiti anche su altri sistemi industriali, se vogliamo pensare alla continua occupazione. Abbiamo bisogno di risorse per fare questo però. Ma noi paghiamo tre punti in più della Cassa Integrazione rispetto a un altro sistema industriale. Il nostro fondo di Cassa Integrazione ha accumulato 4 miliardi di avanzi negli ultimi anni. 4 miliardi. E li abbiamo pagati noi dell'edilizia. Allora noi chiediamo che parte di questi soldi tornino al nostro sistema per la formazione, per il sistema della borsa lavoro, per la formazione continua, anche come ammortizzatore sociale. E questo dobbiamo essere insieme su queste tematiche perché altrimenti non lo salviamo il nostro settore delle costruzioni se non parliamo concretamente di queste problematiche. Assolutamente. L'occupazione è un valore importantissimo per il mondo delle costruzioni perché il lavoro noi lo facciamo con le mani. La qualità del prodotto oggi è basilare. Non ci sarà futuro per le imprese che non danno qualità di prodotto. e allora dobbiamo fondare tutto sulla formazione. Per cui la borsa lavoro è un momento che è importante e che voglio sottolineare perché deve essere portato a compimento e perché sarà l'unico possibile sfogo per le imprese sulle tematiche del costo del lavoro. E il contratto, ripeto, deve essere il momento di sintesi di tutte queste cose. Noi abbiamo, come parte sociale, abbiamo tutta la volontà di portare avanti la fase contrattuale. Non abbiamo secondi fini. assolutamente. Stiamo toccando argomenti difficili, sicuramente difficili, innovativi, che cambiano completamente la visione di quello che era lo status quo, ma dobbiamo avere la forza di farlo. In questo momento dobbiamo avere la forza di fare scelte coraggiose. Noi chiediamo alla politica scelte coraggiose. Chiediamo al mondo della politica di darci risposte chiare, precise, coraggiovi, innovative. e noi chiediamo alla politica e noi non siamo in grado e capaci di fare scelte coraggiose. Non saremo mai credibili all'orchio della politica. Per cui vi chiedo come parte, chiaramente, da parte della formazione del nostro sistema, di far sistema nei vostri territoriali su queste tematiche, perché l'obiettivo è che cominciate a parlarne con le scuole, scuole, casse di CTP. Questo è il nostro obiettivo. Aprite un dibattito, cominciate a ragionare come fare un sistema unico. Dobbiamo farlo per pensare noi come farlo a livello nazionale. Dobbiamo razionalizzare dalla parte nazionale in giù. Ma questa è una sfida grande. Ci chiamano in causa, noi dobbiamo far vedere al governo, all'amministrazione che siamo una parte sociale, economica, attiva, propositiva, concreta, che vuole sistemare il sistema delle costruzioni. Grazie. Come una ristrutturazione e una riorganizzazione degli enti va collocata entro uno scenario, io non sono molto convinto dell'ottimismo che permeava alcuni interventi. Volevo riassumere brevemente. CGL, Cisleville e Confindustria a Genova, noi l'avevamo fatto anche un po' prima, avevano delineato alcuni problemi. Cioè che in Italia esistevano degli elementi di forte critica. Nel senso che abbiamo un costo del sistema Italia non concorrenziale con gli altri sistemi europei. Neanche, tantomeno quelli mondiali. e veniva individuata in una situazione appunto di crisi le possibilità di rilancio entro i limiti offerti dall'Europa. Altrimenti, se splafoniamo il famoso 3% ci veniamo commissariati. Il problema è questo. Le cause del non funzionamento del sistema Italia derivano dai costi della politica della burocrazia. Il costo della politica non sono i parlamentari, eccetera. Il costo di un sistema collegato come vengono fatti tutte le cose, costi dell'inefficienza del pubblico impiego. mi sembra che le risorse utilizzate fino adesso siano state accompensate molto parzialmente 6500 esodati e una parte di cassa integrazione in deroga che è finita. Quindi abbiamo anche questo. Poi sono state utilizzate per l'Imu e si stavano ricercando ma con accise varie fino alla crisi attuale per trovare la copertura della non aumento dell'IVA. Mi sembra che stanti discorsi nessuno dei gangli fondamentali che venivano individuati è stato risolto. L'altro problema fondamentale che veniva posto e su questo le confederazioni ma anche la confindustria erano pronte alla massima mobilitazione che è sempre stato detto negli interventi è la diminuzione del costo del lavoro per gli imprenditori e per i sindacati. Questo rimane un nodo che se rimane il governo su questo si va allo scontro o c'è questo o si va era stato rinunciato che andava allo sciopero generale. Questi nodi rimangono tuttora e allora l'ottimismo viene deriva dal fatto che se riprenderà l'Europa riprenderà in parte l'Italia se l'Europa riprenderà il 2% l'Italia recupererà 0,7 0,9 0,11 e non basterà sicuramente a risolvere i problemi che abbiamo in questo momento. Quindi i provvedimenti che vengono fatti oggi dal governo non sono stati tali da risolvere i problemi del Paese. Risolvere dallo 0, eccetera non risolve minimamente nelle prospettive dell'Italia nella situazione gravissima occupazionale che va a colpire soprattutto i giovani. Questo è uno scenario dopodiché possiamo dire che il settore dell'edilizia toccherà il fondo e riprenderà in quanto indotto anche da una situazione che è gli altri Paesi che riprendono più di noi. Bisogna sulla burocrazia liberare risorse. si dice da parte dell'ABI che nei primi sei mesi sono aumentati dei 5 miliardi i deposi nelle banche. Questi non vengono spesi o il vero l'investimento dell'edilizia non viene fatto. Questo è il vero problema. Se andate a vedere purtroppo lo scenario politico italiano nessuno è interessato salvo nelle dichiarazioni alla politica ai problemi economici del Paese se vedete per vari problemi un po' sottotono le primarie chi viene eletto segretario del partito questo era il problema una grossa spaccatura all'interno del Partito della Libertà che deriva soltanto dal problema Berlusconi giustizia ma non siamo spaccati su quello che è lo sviluppo del Paese secondo me il problema prima di parlare è che tipo di sviluppo vogliamo avere quali sono le risorse utilizzabili io ritengo che poi ci sarà finalizzato che la vera risorsa che ha l'Italia è il bello il bello del territorio il bello della storia il bello dei centri urbani questa è una risorsa che abbiamo non abbiamo né miniere tecnologicamente siamo inferiori a un confronto con la Germania questo va valorizzato allora vuol dire spingere sulla difesa la tutela del territorio sulla ristrutturazione dei centri urbani sulla ristrutturazione delle periferie non a ulteriori abitazioni era il progetto lo sviluppo energetico risparmio energia nuovo tipo di edilizia questa è la prospettiva poi si può dire anche che questo è collegato al design quindi all'industria del design questo è l'avvenire dell'Italia ma nessuno pensa realmente a fare dei provvedimenti integrati su questa cosa qua e questo è una mancanza quindi l'ottimismo che permea una serie di interventi niente l'edilizia probabilmente riprenderà appunto per un utilizzo delle risorse non riprenderà ai livelli del 2008 i provvedimenti sì sono elementi positivi ma non risolvono i problemi strutturali dell'edilizia problemi dell'edilizia scolastica 100 milioni siccome ce l'ho familiarmente beh la ristrutturazione del Socrate di tre aule è costata più di 100 milioni è impegnato provincia comune stato sono un pezzetto di una scuola quindi le risorse destinate all'edilizia scolastica sono un pagliativo inutile cioè che non risolve nessun minimo problema allora abbiamo problema di come rapportare una crisi degli enti della bilateralità rispetto a una situazione di crisi premesso che gli enti bilaterali sarà per scopo ma anche per economia vanno ristrutturati cioè se le risorse che su cui erano stati strutturati gli enti bilaterali erano quelle del 2008 ora ci sono il 35% delle risorse in meno quindi in ogni caso dobbiamo intervenire seconda cosa e qui si richiama ai nostri se il progetto reale dell'Italia è il bello è un nuovo tipo di edilizia è una ristrutturazione dei centri urbani è il centro istotico sicuramente bisogna riparlare di un nuovo tipo anche di manodopera significa utilizzo di nuovi materiali e quindi noi dovremmo fare una formazione finalizzata a questo scopo all'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali teso a una green edilizia questo è l'elemento quindi in questo particolare il problema fondamentale è come strutturare e come ristrutturare gli enti bilaterali sono due elementi io ritengo che gli enti bilaterali vanno conservati nella natura che hanno sicuramente i scopi dei CPT vanno preservati la natura delle scuole vanno preservate e la natura delle casse vanno preservate allora cosa fare diceva Bellicini nella sua relazione che l'edilizia riprenderà sia per un livello di tecnologie e sia a un livello territoriale differenziato allora dove si trova realmente l'articolazione degli enti bilaterali si trova in delle impostazioni a livello nazionale ma l'elemento gestionale su cui appoggiare una ristrutturazione degli enti bilaterali è il regionale noi dobbiamo far sì che gli elementi gestionali della ristrutturazione passano a livello del regionale perché la situazione dell'edilizia è differenziata e come diceva Bellicini riprenderà in modo differenziato e con qualità differenziata e lì si trova allora per degli enti come il Formedil la dimensione aggregatrice è la regione io ritengo che sia possibile per il Formedil e le esperienze lo dimostrano che sia possibile e sia indispensabile avere una dimensione regionale e di interlocuzione della scuola coordinata a livello regionale nel Formedil con la regione e ritengo che anche sia indispensabile in questo progetto differenziare la formazione e la specializzazione della formazione all'interno delle scuole presenti in una stessa regione non si possono fare doppioni di formazione specialistica eccetera eccetera quindi il Formedil può trovare una dimensione della ristrutturazione a livello regionale dove all'interno di questo si possono efficientare e trovare le sinergie all'interno delle valle scuole eccetera eccetera con questo progetto stesso progetto io lo vedo all'interno del CPT quindi questo tipo di aggregazione dove trovare l'efficientamento prova più complesso e differenziato e rappresentato dalle casse edili nonostante tutta se no si facciamo il bonisti qua nonostante tutta la nuova volontà che può mettere in campo il sindacato noi ci troviamo di fronte a una struttura ance ance che non permette l'aggregazione a livello regionale c'è qua Calzoni neanche nell'Umbria neanche nell'Umbria ci siamo riusciti nonostante tutta la volontà di Massimo quindi dobbiamo prendere atto che i localismi non permettono livelli di aggregativi a livello regionale quindi gli efficientamenti vanno trovati in coordinamenti e specializzazioni a livello regionale ma che preservino in questo momento non solo per il futuro questa gestione di efficientamenti di strutture di servizi a livello regionale che non coinvolga però la strutturazione a livello regionale delle casse perché mi dovete spiegare in una regione c'è solo una regione italiana dove l'ANCE ha uguali prestazioni e uguali contribuzione che è il Veneto e anche su questa ci sono vari problemi hanno fatto la trasferta ma su questo elemento e non su una cassa di live regionale si devono trovare a livello regionale sinergie e sistemi che permettono di dialogare tutte le casse dobbiamo far sì che ci sia veramente uno sforzo fra noi e l'ANCE affinché le contribuzioni e le prestazioni diventino quanto più possibili similiari ma affinché non ci sarà questo sarà molto difficile arrivare a questo processo ecco gli elementi su cui noi ci siamo di fronte e che sono inelodibili a me si può proclamare fin domani mattina che ci sia le casse di live regionale non è possibile perché si arriva di confronti di riscontri che sono un po' sì l'altra cosa che io su quale sono molto perplesto è che si è fatto a livello territoriale delle aggregazioni degli enti anche dei tre enti insieme non è che se noi sommiamo tre debolezze andiamo a fare una forza la ristrutturazione degli enti si possono fare anche o soprattutto senza aggregare specializzando eccetera perché se vado a fare un ente unico con lo stesso personale con le stesse funzionalità di prima io sommo tre crisi ecco perché si deve preservare quella che è l'autonomia degli enti e trovare altre soluzioni per l'efficientamento basterebbe fare un centro servizi unico a livello territoriale unificando quello che è possibile unificare per risparmiare e poi ricordiamoci bene che efficientare e risparmiare significa esuberi di personale e anche questi vanno affrontati in un processo perché ci sono varie enti che mandano in cassa integrazione il personale allora l'ultima cosa se noi riteniamo di ristrutturare gli enti dando agli enti le stesse funzioni di oggi abbiamo un grosso esubero del personale il problema per risolvere questo elemento è che salvaguardare il personale significa dare nuove funzioni agli enti altrimenti siamo di fronte a questo scenario quindi abbiamo anche tutto un territorio da sperimentare nonostante l'opinione di chi mi seguirà dell'asseverazione di creare sinergie sugli enti sulla banca sulla Blenit dando la possibilità di nuove sperimentazioni questi sono i terreni nuovi c'è la congruità se noi riusciamo a fare questo sicuramente i costi del personale in termini di costi di esuberi saranno molto inferiori però ristrutturazione degli enti significa questo significa efficientare preservando quelle che sono le funzioni salvare il personale significa dare nuove funzioni agli enti il livello ottimale di fare questo è il regionale una piccola piccolo appunto se mi è permesso ho visto che non c'era lo spazio per buia e ho capito perché è stato fatto parlare prima ma visto che siamo tutti operatori della bilateralità la bilateralità si sostanzia anche con attenzioni anche al rispetto reciproco nelle presenti e nei modi con cui possiamo sostenere le nostre idee e le nostre valutazioni per quanto riguarda il merito della domanda io credo che buia abbia già impostato bene il ragionamento credo però che bisogna fare un passo in più avere più coraggio rispetto a quello che si vuole fare in edilizia dobbiamo chiederci se anche noi dobbiamo spingere per polverizzare ancora di più il rapporto tra dipendente e imprenditore o se dobbiamo ricostruire le imprese perché la formazione ci deve servire a questo io sento parlare di qualità di costruire in qualità di ristrutturare in qualità ma per fare questo bisogna creare un rapporto stretto tra imprenditore e lavoratore bisogna che ci sia fiducia reciproca legame tra imprenditore e lavoratore io non credo al lavoratore di qualità che al mattino si mette sulla strada e aspetta che qualcuno lo raccolga per portarlo in cantiere bisogna creare stabilità nell'occupazione se per creare stabilità dobbiamo scrivere altre cose sui contratti su come ci sia che si raccorda tra lavoratore e imprese possiamo farlo vogliamo trasformare il nostro sistema a cassa ed il in una grande agenzia interinale gestita dalle organizzazioni sindacali dove le imprese possono chiedere i lavoratori la professionalità dove possiamo fare la formazione è questo che volete cioè come dire io credo che trovate un sindacato pronto a queste sfide però dobbiamo mettere al centro il fatto che il lavoratore è un elemento di qualità è centrale nella qualità anche delle costruzioni l'imprenditore noi vogliamo che rimanga imprenditore edile vogliamo che trovi soddisfazione nel fare l'imprenditore edile per fare questo dobbiamo eliminare tutti i falsi imprenditori che abbiamo in edilizia dobbiamo eliminarli attraverso una selezione più forte il DURC ci ha aiutato moltissimo a a far partecipare agli apparti di imprese serie ma oggi proprio perché ci ha aiutato in questo modo ci sono molte imprese che applicano altri contratti per evitare di avere il DURC dell'edilizia perché c'è anche un altro DURC un DURC che non non fa applicare il contratto perciò non gli frega niente di che contratto applicano i lavoratori noi abbiamo bisogno invece di dare forza sostegno agli imprenditori e gli imprenditori veri perché sappiamo che un imprenditore vero tratta bene anche il lavoratore dà la giusta retribuzione dà il giusto rispetto della vita del lavoratore nel cantiere perciò siamo molto legati su questo però dobbiamo farlo insieme dobbiamo farlo ricostruendo l'impresa se riusciamo a ricostruire l'impresa io credo che troveremo imprenditori che di nuovo hanno l'orgoglio di dire quell'opera l'ho fatta io con i propri dipendenti che hanno costruito quell'impresa c'è anche un problema di costi io credo che su questo siamo tutti consapevoli però parlare di costi e non fare una grande battaglia per la parità di contribuzione tra partiti IVA autonomi e lavoratori dipendenti credo che sia una battaglia persa in partenza noi dobbiamo fare in modo che il contributo previdenziale sia uguale per tutti i lavoratori autonomi o dipendenti e poi vedremo effettivamente quale tipo di lavoro venga richiesto perché se costa lo stesso modo noi riusciremo anche a permettere alle imprese di scegliere la miglior forma organizzativa cioè noi oggi abbiamo un sistema bilaterale che costa non non siamo in grado di dire quanto rende e forse dovremmo valutare anche questo spiegare alle imprese i lavoratori anche al sistema istituzionale quanto rende il nostro sistema bilaterale quanto rende un DURC per un comune che vuole costruire in legalità quanto rende il nostro sistema di formazione e qui abbiamo noi ce ne dimentichiamo spesso ma io credo che dobbiamo riconoscere la grande professionalità che c'è dentro le nostre scuole edili cioè una grande capacità professionale una grande capacità di far di dare un'immagine positiva al nostro settore noi abbiamo bisogno di spiegare cosa rende il nostro sistema della bilaterale certo oggi con una riduzione così forte dell'occupazione abbiamo meno risorse per reggere il sistema esistente io sono convinto che dobbiamo razionalizzare l'esistente almeno a livello regionale e creare un sistema unitario a livello nazionale partendo dai tre enti nazionali però è importante salvaguardarne le missioni specifiche non possiamo far diventare tutto la cassa edilo tutto la scuola edilo tutto il ctp dobbiamo avere unici strumenti che salvaguardano le missioni specifiche di ognuno e su questo possiamo fare una grande risparmio di costi possiamo risparmiare i costi anche sulla formazione se fossimo un po' più convinti che non possiamo far pagare le nostre imprese una doppia contribuzione per la formazione professionale noi paghiamo lo 0,30 che viene utilizzato dagli altri settori quasi totalmente e poi paghiamo la nostra formazione tutta in auto cioè finanziamento noi dobbiamo avere la forza di andare a chiedere che le imprese che versano alle scuole edili siano esonerate dal versare lo 0,30 per gli altri settori perché questo vuol dire finanziare il nostro settore finanziare la formazione nel nostro settore e infine e infine la questione dei costi io credo che se veramente vogliamo ricostruire una permanenza perciò anche come dire un affetto dei lavoratori alla propria professione che trovino soddisfazione nel fare il muratore per tutta la vita bisogna premiare chi si ferma nel settore sentire che si vuol togliere l'unico istituto che riconosce l'anzianità professionale al lavoratore vuol dire che non si ha idea di come mantenere i lavoratori nel settore ma si ha più un'idea di come avere mani libere nell'utilizzare la mano d'opera ecco io credo che noi dobbiamo veramente lo dico anche con un po' di polemica ma non lo dico in modo negativo lo dico per far emergere le contraddizioni che stiamo vivendo continuiamo a dire che abbiamo bisogno di avere lavoratori di qualità che dobbiamo avere un forte rapporto tra lavoratore e impresa bene mettiamo in piedi degli articoli che facilitino questo aspetto ma se togliamo anche quelli che già abbiamo sarà difficile spiegare ai lavoratori guarda noi ti vogliamo bene però devi prendere meno di retribuzione perché abolire l'APE come è la proposta che ci è stata fatta io spero che venga accantonata globalmente vuol dire accantonare soldi per 3-4 contratti non una piccola mentre invece riformare il sistema della bilateralità vuol dire risparmiare ma allo stesso tempo ridare qualità a tutto il sistema potrei rispondere con una sintesi estrema che è quella che mi farebbe dire che abbiamo bisogno assolutamente di integrare il nostro sistema di riconoscere pienamente il nostro sistema nel contesto della normativa prevista in questo settore e soprattutto per questa via renderlo più funzionale ed esigibile in una logica di corretta interpretazione dei principi di sussediarietà vorrei però provare a motivare questa mia affermazione provando ad inserirla un po' nel contesto del ragionamento generale perché abbiamo assolutamente bisogno in questa fase riprendo molte cose che sono state dette prima di me di provare tutti a realizzare degli elementi di forte coerenza fra gli elementi oggettivi di analisi che abbiamo di fronte e le conseguenti scelte che ci chiamano a fare e il coraggio ciascuno di farle perché è evidente che esiste una contraddizione fra quello che diciamo uso il plurale che diciamo dall'inizio della crisi quando complice il terremoto dell'Aquila definimmo il manifesto degli stati generali che individuava in un'edilizia diversa in un cambiamento di modello di sviluppo diverso in tutte quelle opportunità che oggi Bellicini ci ricordava che poi in fin dei conti sono quelle che individuavamo nove anni fa e la situazione concreta dell'oggi e dovremmo tutti riflettere del perché oggi c'è questo scatto se io oggi dovessi dire sono d'accordo con quelle opportunità è quella la strada per uscire dalla crisi direi sicuramente sì se dovessi analizzare la nostra capacità di cogliere quell'opportunità sul terreno dell'analisi direi che siamo stati estremamente tempestivi se poi dovessi valutare lo stato dell'arte del settore non soltanto dal versante dei suoi aspetti numerici sui quali ci siamo detti tante volte abbiamo perso occupazione abbiamo perso imprese abbiamo perso fatturata abbiamo perso in termini di apporto al prodotto interno lordo di investimenti eccetera ma se dovessimo valutarlo sul terreno della qualità di quello che resta abbiamo saputo insieme orientare verso quella prospettiva il sistema no perché di fronte a una crisi come questa noi dobbiamo avere il coraggio di non rispondere in termini istintivi perché se in termini di analisi arriviamo a conclusioni giuste in termini istintivi la reazione del sistema di imprese la reazione del mercato è stata esattamente opposta in questo fra l'altro non sempre aiutata dalle decisioni messe in campo in questi anni che hanno abbassato ulteriormente il livello di tutela della regolarità spesso sotto la spinta di una volontà a semplificare che è anche la nostra ma fino all'ultimo perché le modifiche sul DUR che introdotte nel decreto del fare non vanno in quella direzione le modifiche al decreto legislativo 81 introdotte nel decreto del fare non vanno in quella direzione così come il finanziamento di una rata dell'Imu dell'abolizione dell'Imu sottraendo anche qui investimenti di spesa corrente destinati ai controlli sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità del lavoro da un lato dall'altro le imprese che condividono con noi certi obiettivi e poi nella reazione quotidiana finiscono per adeguarsi ad una rincorsa al ribasso io con Gabriele ci ho discusso spesso di questo lo sa non posso non farlo neanche in questa sede lo diceva già Domenico io voglio essere ancora più provocatorio io vado oltre non so siamo disponibili diciamo facciamo a meno dell'impresa perché se il tema è la flessibilità assoluta a me mi cacceranno dalla CGL no? ma io mi assumo la responsabilità di un sistema bilaterale che si fa esso carico di essere il grande contenitore e garante della regolarità di tutta la mano d'opera edile il committente chiama la cassa la cassa glielo fornisce la scuola riforma il CTP controlla da che mi serve l'impresa quando diventa mero soggetto di trasferimento è una provocazione seria ragazzi perché perché è così ma da che parte stiamo andando stiamo andando in una direzione nella quale se non invertiamo questo processo l'impresa non c'è più l'impresa non c'è più e non c'è più solo perché c'è la crisi perché non contrasta la crisi e non è aiutata a contrastare la crisi in una maniera corretta allora se vogliamo una edilizia come quella che ci ha raccontato Bellicini e la vogliamo la progettazione integrata il rapporto il feedback il cantiere simulato ma immaginate di farlo con il nostro sistema di imprese nell'edilizia privata ma quando ci arriviamo con 25 subappaltatori 75 partite IVA 45 imprese metalmeccaniche dentro lo stesso cantiere quando dicevo quindi che abbiamo bisogno di un rapporto diverso che le politiche abbiamo bisogno con lo Stato e con il governo quando dico che abbiamo bisogno di un sistema nel quale il nostro sistema bilaterale la nostra contrattazione trovino elementi di appoggio nell'azione legislativa che la rendano in qualche misura esigibile e ne facciano leva di selezione positiva e la selezione positiva non può che riguardare un'azione di politica industriale fra virgolette dove dietro queste parole che evochiamo tutti c'è un intervento di regolazione del mercato dal versante delle tipologie e delle modalità degli appalti c'è un intervento di regolazione dell'impresa dal versante degli strumenti di qualificazione e di selezione delle imprese nell'accesso al mercato pubblico e al mercato privato c'è un tema di regolazione del lavoro nell'azione di contrasto a ogni regolarità e a ogni illegalità azione nella quale il nostro sistema può e deve avere un ruolo e in questo vengo al punto torno alla domanda Piero io penso che dovremo interrogarci più in generale su un diverso rapporto fra leggi e contratti noi in fin dei conti abbiamo sperimentato per primi questa modalità positiva di rapporto perché quando abbiamo fatto il DURC per via contrattuale cosa abbiamo fatto se non sperimentare una modalità positiva di rapporto rispettoso dell'autonomia delle parti sociali al tempo stesso della sovranità e della generalità della legge e degli interessi che rappresenta e perché non possiamo sperimentarlo ancora intanto sostenendo l'implementazione del DURC a partire da quella prevista sul DURC per congruità diciamo da tanto tempo una cosa tutto questo sistema di incentivi è tanto difficile dire che si eroga solo alle imprese che attuano il DURC per congruità anche nel mercato privato se no quegli incentivi per le modalità producono lavoro nero non producono lavoro di qualità uno due vado anche oltre perché c'è chiaramente il tema non solo del contrasto ma anche in qualche misura della tutela della rappresentanza di tutto quel lavoro che non è scomparso perché di quei 550.000 lavoratori che sono spariti molti magari staranno a fare partite IVA o stanno imboscati in falso lavoro autonomo o in altro allora possiamo ragionare pure qui in termini un po' eretici ma su una modalità diversa di rapporto fra legge e contrattazione dove che so il minimo contrattuale che stabiliamo per contratto diventa riferimento obbligatorio per legge nella valutazione del costo minimo sia esso lavoro indipendente autonomo che facendo il paio a quello che dice Domenico dal versante contributivo perché se io non posso impedire al lavoratore di essere autonomo di essere partita IVA ma non posso pensare che quello suo lavoro che nei fatti è esattamente identico a quello di un carpentiero di un manuale dipendente costi sotto certi limiti e in questo quadro penso quindi che dovremmo intanto iniziare a ragionare su come utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo e su questo abbiamo oggettivamente delle eccellenze già in questo contratto possiamo immaginare a come almeno monitorare quello che accade nel cantiere almeno usare il sistema per registrare per immaginare a come intervenire al versante appunto della formazione e della sicurezza per tutti da un lato non per fare cassa con un nuovo mercato e ripristinare per quella via i bilanci degli enti chiaramente ma per ragionare all'interno di un quadro ma soprattutto dobbiamo rendere ottimali le eccellenze che abbiamo dal versante della formazione che oggi vanno orientate chiaramente da un lato nel recupero di risorse attraverso una maggiore integrazione con quel che c'è del Fondo Sociale Europeo con la nostra capacità di intercettarlo con la razionalizzazione e il rapporto allo 030 con una maggiore finalizzazione rispetto all'apprendistato se quello davvero deve essere il canale principale di accesso al lavoro e perché no con una utilizzazione di Blenit che sia capace di superarne anche i ritardi che abbiamo registrato e in questo penso davvero che potrebbe essere utile una modalità di riconoscimento fra virgolette fra il sistema e il ministero che in qualche modo faciliti legittimi migliori la capacità di rapporto non solo col sistema di collocamento pubblico ma più in generale con le modalità con le quali poi andiamo a realizzare l'efficienza dell'effettivo incontro fra domanda e offerta un'ultima considerazione perché se parliamo di regolazione appunto io non voglio quando dico che dovremmo trovare un rapporto diverso e più efficace fra legge e contrattazione immaginare di sottrarre spazi alla contrattazione per noi la contrattazione resta lo strumento e la nostra autonomia di parti deve essere esercitata dentro la contrattazione dobbiamo difenderne gli spazi e i recinti ma per farlo abbiamo una strada una via maestra rinnovare i contratti rinnovare i contratti rinnovare i contratti in maniera coerente all'impostazione e faccio mie le argomentazioni di domenico sull'ape così come faccio mie i ragionamenti che abbiamo fatto e che facciamo quotidianamente tavoli quando a proposito di coerenze diciamo ragazzi uno se vogliamo rendere efficace il nostro sistema anche come strumento effettivo di regolazione se vogliamo interfacciarlo in maniera più efficiente nell'ambito di un nuovo rapporto tra l'azione contrattuale e l'azione legislativa abbiamo la necessità di riordinarlo nel nostro sistema perché il nostro sistema non regge più è figlio di un altro mondo è figlio di un altro sistema a partire dalla riorganizzazione delle dimensioni territoriali quasi a prescindere dalla crisi all'interno di un progetto che non può cadere come orizzonte un orizzonte chiaro che è quello di una dimensione più ampia quindi a limite regionale il punto è che nel contratto dobbiamo fare insieme un vestito che sia sufficientemente ben tagliato e quindi esportabile dappertutto ma al tempo stesso sufficientemente flessibile ad adattarsi alle diverse situazioni che va a incontrare per un processo che va governato rispetto al quale nessuno può fare il furbo dobbiamo avere tutti chiarezza su qual è l'obiettivo ma al tempo stesso sapere quello che diceva Massimo che poi la realtà è una realtà complessa che va gestita e governata ma non usando il governo e la gestione per frenare il processo perché da quella direzione si va chiarire la direzione e rendere flessibili le tappe e al tempo stesso esigibili i processi questo è quello che secondo me dentro questo rinnovo contrattuale dobbiamo fare questo è quello che dobbiamo offrire anche complessivamente al paese e al nostro stesso sistema come nostro contributo per uscire dalla crisi con una strumentazione più moderna e con contratto più efficace in primo luogo nel restituire potere d'acquisto a quei lavoratori senza il quale nemmeno i sistemi di incentivazione più avanzati potranno essere capaci di produrre risultati e questa non è una sfida lontana perché è una sfida che ci dobbiamo giocare da qui a un mese a un mese e mezzo e su questo si misurerà la nostra credibilità di tutti grazie per l'invito e mi trovo a chiudere come dire una serie di interventi particolarmente interessanti che da un lato insomma confermano alcune certezze alcune consapevolezze quantomeno che in questi anni mi sono fatto seguendo tutta l'evoluzione degli aspetti della disciplina di tanti istituti che sono stati richiamati e sui quali dirò qualcosa ma anche delle stesse problematiche dico solo come osservatore non come chiaramente soggetto che può esprimere opinioni sì ma insomma non può dare un contributo decisivo sul tema della riforma della bilateralità edile nel senso di una esigenza di razionalizzazione fatto a Perugia era diversi anni fa mi pare che lo stato di attuazione sia ancora quello e dove le riflessioni che ho sentito oggi sono le stesse che senti diversi anni fa in quella sede devo dire che si è sempre e si continua a portare a modello il sistema dell'edilizia molto spesso in confronto ad altri settori proprio per la forza di questa bilateralità che ne fa una caratteristica particolare e forse si potrebbe dire per fortuna che c'è questa forte dimensione perché l'avete ricordato voi oggi la situazione che attraversa questo mondo è la situazione di una forte destrutturazione destrutturazione sia sotto il profilo dell'impresa sia sotto il profilo delle modalità di utilizzazione della mano d'opera questa è una cosa che è sotto gli occhi di tutti che è uno dei fenomeni principali veramente oggi è non dico imbarazzante tracciare un profilo dell'imprenditore edile nel nostro sistema quasi impossibile per le ragioni che avete voi detto e che insomma sono talmente anche nella consapevolezza di chi cerca di contrastare certi fenomeni o tendenze involutive quali sottoscritto prima nella veste di solo direttore delle attività aspettive oggi come dice il segretario generale del ministero perché per esempio sul tema delle false partite IVA o dei soggetti che insomma scelgono sono costretti a scegliere la forma del lavoro autonomo per sostanzialmente per continuare a lavorare ormai le dimensioni quantitative non sono più delle dimensioni fisiologiche in grado di poter essere sostenute da un sistema dall'altro ricordiamocelo che anche sotto il versante era mano d'opera occupata tradizionale lavoratore subordinato che opera a tempo pieno nonostante i meccanismi anche delle agevolazioni contributive è una figura recessiva è una figura recessiva quantomeno che diminuisce perché le forme di contratti in qualche modo flessibili anche nel settore edile cominciano ad acquisire una dimensione talmente forte che aprono tutti i ragionamenti che sentiva anche stamattina per esempio sul tema della formazione ecco la formazione nei confronti di cui va pensata esclusivamente del lavoratore strutturato va anche ripensata perché è inevitabile nei confronti di un soggetto che ha con un meccanismo quasi di porta girevole delle forme di ingresso e di uscita nell'ambito dei contesti aziendali che sono oggi purtroppo molto più veloci di quelli tradizionali non per le tipologie del lavoro a termine caratterizza la durata cantiere ma per altre forme molto più elastiche ieri sera mi è capitato di dire ma perché l'avevo guardato poco poco prima il dato insomma il fenomeno del cosiddetto lavoro intermittente nel vostro ambito è significativo sicuramente non fisiologico rispetto a dei numeri tradizionali mi ricordo contratto di lavoro intermittente che nel suo complesso è il terzo contratto di lavoro italiano del quale come dire ancora non se ne parla nemmeno nella contrattualistica non so se conviene a questo punto assumerlo come dimensione da regolare perché tanto queste cifre sono state in qualche modo pubblicizzate insomma 750.000 lavoratori intermittenti di cui oltre 100.000 inizia ecco quindi questi sono fenomeni che in qualche modo incidono sulle politiche della formazione incidono anche dall'alto sul versante di chi è l'imprenditore edile qui permettetemi una battuta non dico polemica però se volete con devo dire non grande entusiasmo devo prendere atto che anche su questo però le sedi dove si è cercato di costruire una definizione di percorsi in ordine a quello che individuiamo alcuni anni fa come uno strumento centrale cioè la qualificazione professionale dell'impresa edile si è scontrata con un contesto dove insomma sappiamo quello che è successo siamo stati costretti a cambiare le norme perché la situazione di stallo nell'ambito delle compagini in particolare datoriali su quali fossero i requisiti dell'impresa edile minimo etico vorrei dire non si è riusciti a trovarli e questi sono come dire però degli elementi che sicuramente non te pongono a favore di questo tentativo di tenere insieme un sistema che abbia una sua compiutezza e una sua direi sostenibilità in un contesto complicato dove ci sono le problematiche contrattuali dove ci sono le problematiche delle non applicazioni contrattuali perché sono molte le imprese che hanno altri contratti ma fanno sostanzialmente edilizia turbando come dire i meccanismi della leale concorrenza tra le imprese e quant'altro devo dire che però da un punto di vista normativo tutta la norma diciamo così la legislazione di questi anni va verso un riconoscimento forte della bilateralità anche direi con un ruolo di vera e propria sussidiarietà insomma tutte le discipline sul DURC che nascono in materia in modo contrattuale sono state ampiamente recepite nella legislazione di questi anni dove sostanzialmente l'affidamento alle casse edili per esempio di questo ruolo di certificazione è stato un punto decisivo di svolta certo se dovessi dare una valutazione io credo che oggi il DURC impone una fase di riflessione a tutti perché detto molto chiaramente non vorrei che da grande risorsa si trasformi quasi in un fattore di blocco e di sviluppo cioè dovremmo non essere posti di fronte all'alternativa di buttare il bambino come si dice con l'acqua sporca oggi questa tentazione è una tentazione forte tradotta a livello tecnico significa che contrastare o continuare a contrastare con l'unghia e con i denti il principio che la regolarità contributiva non sia certificabile è sempre più difficile ma questo per le difficoltà agli ingranaggi che questo meccanismo pone ne dico solo una insomma per per esempio mettere insieme la filiera delle imprese edili necessariamente una filiera tra il DURC dei subappaltatori e degli appaltatori e le regolarità di chi in qualche modo in qualità di committente deve cercare di acquisire anche lo sblocco dei mandati di stato di avanzamento e dei saldi finali questo è un tema che oggi ci vede in situazione di stallo in un meccanismo dove anche i famosi fenomeni della cessione dei crediti della compensazione tra virgolette almeno ideale in ordine alla DURC regolare o DURC non regolare crea molte 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 criticità sull'aspetto invece più legato a come impostare un discorso di formazione che sia poi non una formazione fine a se stesso ho sentito questa ma lo sapevo benissimo che insomma oggi gran parte della formazione è la formazione di salute e sicurezza sostanzialmente per ottemperare gli obblighi previsti normativamente e devo dire sempre meno una formazione fatta per formare delle professionalità ora premesso che non credo molto per logica direi così e per esperienza ad una formazione sulla sicurezza io ti formo a svolgere la tua professionalità con integrato il meccanismo della sicurezza insomma se faccio la formazione per i gruisti o faccio la formazione per i conduttori macchine non ha senso dire però sta attento le norme dell'81 su questo poi come lo fai vabbè arrangiati è una formazione che necessariamente nasce integrata per pensare sostanzialmente ad un processo edile compiuto completo sia di parte come dire di know-how tecnologico e di sicurezza applicata integrata però nel processo produttivo e non avulsa come è un modo di pensare ve lo dico molto chiaramente tipico del nostro sistema di impresa non solamente etine il costo della sicurezza separato il costo è il costo della produzione con integrato il meccanismo della sicurezza però impone questo secondo me un ripensamento in una logica che è sì di formazione ma che è anche una logica fondamentalmente di occupabilità una degli aspetti che voi dicevate la borsa lavoro ha un senso fare la borsa lavoro ma secondo me è una domanda direi quasi retorica non è che ha un senso io debbo formare dei soggetti in grado di operare in cantiere in modo adeguato delle professionalità che non si improvvisano e siamo tutti consapevoli che non si improvvisano mentre la testimonianza concreta ci dimostra che sempre più spesso anche le dinamini infortunisti evidenziano i soggetti che si improvvisano etili ma qui ritorniamo in parte con le cose che dicevo prima ma guardate in un contesto dove è qui il ruolo della bilaternale in settore edile in questa dinamica il sistema pubblico della domanda e offerta di lavoro sta andando sempre più in crisi intercettava poco una volta oggi intercetta lo sapete benissimo tre lavoratori su cento e dove con evidente ma veramente evidente contraddizione stiamo capendo che non è in grado di sostenere gli impegni che anche a livello comunitario ci dobbiamo assumere da qui al primo gennaio del 2014 tanto per essere chiari e per fare una semplificazione sul tema dell'assicurare la cosiddetta garanzia giovani su quale l'Europa ci sta dando complessivamente nell'arco di 3-4 anni quasi 2 miliardi e mezzo ma dove non siamo in grado di fare quello che ci viene chiesto in ordine accoglienza orientamento formazione con chi perché la domanda che ci viene posta siete sicuri di reggere questo tipo di impatto o ve lo affermassimo per le platee stimate di cui si parla cioè di circa 300 mila come flusso giovani hanno certo se uno si guarda indietro e guarda quali sono le truppe dice i 7 mila lavoratori dei centri per l'impiego provinciali che hanno una chiamarla disomogeneità e forse fagli un regalo è fin troppo poco ma una assoluta autoreferenziazione a livello di contesti regionali dove abbiamo anche delle qualità di un certo tipo in alcune realtà ma dove la prevalenza è di soggetti e lo posso dire con una certa come dire sicurezza dove purtroppo sono purtroppo gli ex dipendenti gli ex collocatori negli anni ormai 70 80 che erano anche bravissimi funzionali amministrativi ma sicuramente non soggetti in grado di fare orientamento e come dire ricerca di le migliori professionalità e ancor meno poi sono in grado di dare questo quindi significa questo che cosa implica questo implica che se lo snodo per esempio del sistema pubblico in alcune realtà come snodo fondamentale esclusivo o semi esclusivo almeno da un punto di vista formale dell'incontro domanda offerta oggi questo non è più alcune regioni stesse ti dicono che io devo assicurare ai giovani e non ai giovani perché poi non c'è solo il problema c'è il problema della ricollocazione di quelli che più giovani non sono cioè gli ultra 29 anni addirittura i percettori di prestazione di sostegno al reddito dei servizi adeguati poi chi è più bravo prenderà quelle che sono le risorse pubbliche a disposizione per realizzare questo obiettivo cioè con obiettivi di risultato per chi trova effettivamente posti di lavoro li colloca e al risultato si prende quello che l'ordinamento mette sul finanziamento comunitario quindi è chiaro che in questa logica di rottura anche di un monopolio burocratico amministrativo del sistema pubblico c'è spazio anzi ci sono praterie per andare a svolgere un ruolo importante che è un ruolo importante anche perché è integrato con quei meccanismi di formazione delle qualifiche professionali del settore edile che sono qualifiche professionali che lo sappiamo benissimo anche i cosiddetti canali ufficiali della formazione strutturata da parte delle regioni certamente non prevede noi come dire i corsi di formazione per i computer per la culturazione linguistica le regioni le offrono con grande diffusione non mi risulta che mettano grandi corsi per come dicevo prima i cruisti o i conduttori macchinetri e allora chiaramente questo sistema è oggi praticamente quasi in modo prevalente per non dire esclusivo assicurato dalle scuole edili beh è ovvio che questi soggetti non è che siano come dire un optional in questo circuito nel creare coloro che poi andranno a operare in queste realtà ma diventa il canale assolutamente privilegiato e quindi legare le due parti i due pezzi della formazione col collocamento non mi sembra nemmeno una cosa come dire così originale anzi dovrebbe essere il canale ordinario attraverso cui automatico io formo ma formo per trovare le opportune giuste collocazioni lavorative tanto come dire non c'è qualcun altro che mi fa o mi realizza questa funzione a livello pubblicistico o lo faccio io o non lo fa nessuno sì lo potrebbe fare l'impresa ma l'impresa è chiaramente aiutata da chi in questo quindi io credo che su questo evidentemente ci sia un grandissimo spazio e anche una assoluta ma più che disponibilità direi inevitabilità che il sistema pubblico accrediti questo tipo di formazione e lo accrediti nel senso anche del riconoscimento dei fondi economici per questo previsti che sono fondi economici sostanzialmente che ci vengono dall'Europa almeno per questa per questa funzione ecco io credo che sostanzialmente oggi siano queste le domande cui in qualche modo dobbiamo dare delle risposte e dobbiamo anche per quel che possiamo come soggetto pubblico come amministrazione che sia almeno le dinamiche lavoristiche di questo ambito mettere in campo delle azioni forse più di ieri per cercare da un lato di correggere il tiro su alcune delle cose che prima dicevo sul DURC sulla qualificazione delle imprese e quant'altro ma anche per indirezzare un'azione che forse cerchi di sfruttare altre potenzialità del sistema dell'arrabbiabilità in questo ambito che mi sembrano assolutamente prioritarie almeno quanto quelle che fino a oggi abbiamo o avete in qualche modo praticato grazie grazie